Questa è una cucina che abbiamo realizzato recentemente, la cliente aveva delle esigenze particolari di tipo pratico che abbiamo risolto, per esempio avere un paio di sgabelli sostanzialmente nascosti per la colazione, nascondere qui all'interno dietro questo piccolo tavolato una serie di elettrodomestici da avere sempre pronti all'uso. La parte molto interessante è soprattutto qui a destra dove abbiamo raccolto quello che vediamo grande al frigorifero, nell'angolo c'è una grande dispensa molto molto contenitiva perché profonda. Abbiamo raccolto con un intervento in cartongesso, una casa in risotturazione, abbiamo raccolto con questo pilastro, con questo falso pilastro rotondo, abbiamo diviso dall'entrata per ottenere sostanzialmente una cucina aperta vista chiaramente sul soggiorno di fronte ma molto raccolta, pulita ed elegante. La cliente è ovviamente molto contenta, noi anche.